Successo per il Campus Rotary 2017 è andato in scena la scorsa settimana che si è svolto a Gubbio e ha visto la compartecipazione organizzativa insieme al Sodalizio Gubino anche di altri Rotary Club Umbri. Una rassegna di iniziative rivolte a un gruppo di ragazzi disabili che sono stati coinvolti in una serie di incontri e momenti di intrattenimento, gioco e aggregazione molto partecipati. Tutti i club rotariani Umbri hanno contribuito attivamente, sia segnalando i nominativi dei ragazzi interessati, quest'anno erano 30, oltre agli accompagnatori, sia organizzando le singole giornate. La settimana si è chiusa con una serata di festa all'hotel Beniamino Ubaldi con la coreografia degli sbandieratori e la presenza dei balestrieri che hanno voluto offrire una presenza folclorica a conclusione di una settimana intensa tra Gubbio e il comprensorio. Una settimana nel corto della quale i 30 ragazzi hanno potuto apprezzare le bellezze paesaggistiche della zona, le attività di laboratorio di ceramica, di pasticceria, di costruzioni Lego, fino ad aglietare le serate con piacevole musica. L'apertura era venuta in un luogo particolare, la caserma dei vigili del fuoco di Gubbio, che avevano dato sfoggio della propria abilità con dimostrazioni ed esibizioni operative, che hanno raccolto grandi applausi. Non sono mancate passeggiate a cavallo, in carrozza e su auto e moto d'epoca, con un tanto di visita anche alla Basilica di Sant'Uvaldo per conoscere anche la tradizione dei ceri. Martedì 13 giugno il campus si è spostato anche a Gualdotadino e il Rotary Club locale, grazie al coinvolgimento del mondo dei giochi delle porte, ha regalato una giornata speciale ai partecipanti, facendoli entrare nelle scuderie e centri aggregativi di Porta San Donato e Porta San Facondino. I ragazzi hanno anche potuto accudire i somari e cimentarsi nel tiro con la fionda e con l'arco, fino alla serata finale nella quale, tra fotoricordi e omaggio ai partecipanti, si è conclusa una settimana nell'Eugubino Gualdese che per i 30 ospiti resterà memorabili. E per il Rotary un service in più al beneficio di chi altrimenti non avrebbe potuto conoscere e vivere da vicino esperienze così coinvolgenti e socialmente significative.